Oltre 150 pezzi suddivisi in ben 77 tipologie, quelli che da qualche settimana incompongono Muspos, il museo degli strumenti musicali appartenenti alla tradizione sarda. È nato a Pula, negli ampi locali di Casafrau, su iniziativa dell'amministrazione comunale, che accogliendo la proposta del noto polistrumentista di Maracalagonis, Orlando Magia, ha allestito in un'ampia sala l'interessante mostra interativa. Il primo museo degli strumenti musicali sardi, realizzato in collaborazione grazie all'associazione Balludundu, quest'estate Puleco ha potuto veder nascere Muspos grazie alla maestria, alla grande capacità di Orlando Magia. Non soltanto un'innovativa installazione multimediale interattiva, Muspos avrà anche l'importante ruolo di promuovere e valorizzare i vari aspetti della tradizione musicale sarda. Deve diventare un centro culturale di aggregazione sociale per i musicisti, ma per appassionati e per i giovani che si vogliono avvicinare anche a costruire gli strumenti, perché c'è anche un piccolo laboratorio allestito con tutte le canne stagionate e selezionate.